E adesso per chiudere questa introduzione vi voglio dire che i simboli sono importanti anche quando non c'è la violenza di mezzo. Le donne hanno costruito la nostra Repubblica insieme agli uomini e le istituzioni non possono dimenticarlo. Per questo ho voluto dedicare questa sala qui antistante alle donne, le donne costituenti, le donne sindache del 1946, la prima donna Presidente della Camera, la prima donna Ministra, Tina Anselmi che ci ha lasciato pochi giorni fa e la prima Presidente di Regione. Le donne hanno collaborato a rendere questo Paese democratico e devono essere riconosciute in quanto tali. Quindi è un modo di restituire loro quello che finora non era stato loro dato. Vi ringrazio.